Il potere dell'immaginazione divina Quando l'immaginazione e l'eccitazione si mescolano, non noterete gli ostacoli o questi diminuiranno in gran parte, e quindi il vostro coraggio aumenterà. Questo è importante da ricordare mentre perseguite il vostro scopo divino. Se Dio ha rivelato il suo scopo per la vostra vita e sentite che è più di quanto possiate realizzare, considerate il potere e il dono dell'immaginazione che Dio vi ha dato. Attraverso di essa, Dio può realizzare il vostro scopo. Attraverso l'immaginazione si creano le cose. Albert Einstein ha detto, l'immaginazione è l'anteprima delle attrazioni della vita. E negli anni 50, lo scrittore Napoleani scrisse, l'immaginazione è letteralmente l'officina in cui vengono realizzati tutti i piani creati dall'uomo. In verità, tutto ciò che è stato creato dall'umanità, grattacieli, sci, automobili, computer, edifici, viali, tazze di caffè, batuffoli di cotone e persino cose immateriali come concetti e filosofie, tutto è iniziato nella mente di qualcuno prima di diventare realtà. In effetti, Dio è il creatore e ha benedetto anche noi i commenti in grado di creare, attraverso il potere dell'immaginazione. Non fraintendetemi, non credo che possiamo manipolare le nostre vite attraverso il pensiero al punto da diventare il nostro Dio e far accadere tutto ciò che vogliamo. Per fortuna, Dio è troppo sovrano per questo. L'immaginazione è invece uno strumento con cui collaboriamo con Lui per partecipare alla sua natura divina e realizzare il nostro scopo divino. L'immaginazione riduce ed elimina la percezione degli ostacoli. Quando avevo 21 anni, mi recai da sola all'estero, a Londra, in Inghilterra, per partecipare a un programma di studi all'estero della mia università. La sera prima di salire sull'aereo sapevo che avrei visto la Torre di Londra, avrei viaggiato in metropolitana e avrei bevuto molto tè, ma c'era qualcosa di molto importante che non sapevo. Avevo programmato di trasferirmi immediatamente dalla mia famiglia ospitante, ma un cambio di programma per le vacanze per loro significava un cambio di programma per me. Quindi, 12 ore prima di imbarcarmi sul mio volo, non sapevo dove avrei alloggiato per i primi 14 giorni nella metropoli. Sorprendentemente, non ero preoccupata. Al contrario, ho pregato e chiesto a Dio di darmi una stanza al mio arrivo. Lui ha risposto. Per la mia gioia e il mio piacere, un conoscente dell'Università di Londra, che non sentivo da quasi un anno, mi ha chiamato per caso nel giro di un'ora per fare due chiacchiere. Dopo avergli raccontato la mia situazione, si è offerto di contattare sua sorella per farmi venire a prendere all'aeroporto e di organizzarmi un soggiorno temporaneo presso la sua famiglia. Sorprendentemente, nell'incertezza della mia sistemazione, nel viaggiare all'estero da sola e nell'avventurarmi in un'immensa incognita, non ho avuto paura. Mi sono spesso chiesta perché. La mia risposta migliore è che ero piena di un'eccitazione nata dall'immaginazione. Per molti mesi ho immaginato come sarebbe stato vivere all'estero. Ho preso in prestito libri in biblioteca sull'Inghilterra, ho guardato video sulla cultura inglese e ho parlato con amici che erano stati lì. Di conseguenza, tutta la mia immaginazione ha creato in me un'eccitazione che ha ecclissato qualsiasi paura che potessi avere. In Isamuele 17, l'altezza di Golia è indicata in cubiti. Alcuni credono che fosse alto un metro e novanta e altri pensano che fosse alto un metro e novanta. In ogni caso, dato che la sua altezza è stata indicata in cubiti, la sua altezza è stata di circa due metri. In ogni caso, il fatto che sia stata menzionata la sua altezza dimostra che era fuori dall'ordinario e che era una cosa importante, tranne che per Davide. Poiché Davide era consumato dal suo proposito divino di uccidere Golia, immaginava come sarebbe stato abbattere il gigante e, di conseguenza, era eccitato. Gridò ed rise i suoi nemici e proclamò il nome di Dio. Perciò non si lasciò intimidire dall'apparente ostacolo delle dimensioni di Golia. Quando l'immaginazione e l'eccitazione si mescolano, o non noterete gli ostacoli o questi saranno in gran parte diminuiti, e, quindi, il vostro coraggio aumenterà. Questo è importante da ricordare mentre perseguite il vostro scopo dato da Dio. L'immaginazione è alimentata dagli input. A questo punto vi starete chiedendo come potete alimentare la vostra immaginazione in modo da far crescere l'entusiasmo, l'ispirazione e il coraggio. Ci sono molti modi, ma la cosa principale da ricordare è che l'immaginazione è spesso alimentata da input che provengono da suggerimenti esterni. Ad esempio, alcuni mesi fa stavo pensando allo scopo di Dio per la nostra vita. Poi ho parlato con un uomo in una caffetteria che mi ha chiesto se avessi visto un video su un ragazzo che guardava dei bellissimi pesci nuotare e poi pensava, wow! È per questo che sono stati creati. Gli ho detto di no e la nostra conversazione si è spostata su un altro argomento. La breve immagine dei pesci che nuotavano con grazia mi è rimasta impressa e, nella settimana successiva, la mia mente ci ha pensato mentre facevo la doccia, guidavo e mi allenavo. Una settimana dopo, quando mi sono seduto a scrivere, mi è uscita una storia sullo scopo, con il pesce descritto come aneddoto principale. Quello che ho sperimentato è stato un suggerimento da parte di un'altra persona, che ha alimentato la mia immaginazione. Quindi, se non sapete come risolvere un problema relativo al vostro scopo, ricordate che l'immaginazione è alimentata da input, o suggerimenti, provenienti da fonti esterne. Questo può includere persone, libri, film o qualsiasi altro modo di ricevere pensieri da altri. L'immaginazione aumenta la mente L'immaginazione aumenta dopo che la mente è stata esposta a un problema e si è messa in gioco. Ho frequentato un corso universitario di design grafico in cui il mio professore ci ha presentato molti problemi. Ci chiese di rendere piccolo un oggetto grande, di riprodurre note musicali in un'opera d'arte senza usare le note e di trasformare un sacchetto di carta marrone in un'opera d'arte. Dopo aver presentato un problema, il professor Wada ci ha chiesto di stilare un elenco di possibili soluzioni. Poi ha insistito perché aspettassimo almeno 24 ore prima di iniziare il compito. Perché? Perché sapeva che dopo esserci concentrati su un problema, la nostra mente avrebbe iniziato a lavorarci mentre era rilassata o in gioco. Aveva sempre ragione. Le idee migliori mi venivano quando mi rilassavo sotto la doccia, sognavo ad occhi aperti mentre andavo a scuola o mi dirigevo verso la lezione successiva. Mentre perseguite il vostro scopo divino, ci saranno molti problemi da risolvere. Per affrontarli efficacemente, potete usare gli stessi principi che ho usato io al corso di design. Innanzitutto, pregate e chiedete a Dio di darvi la direzione per fare la sua volontà. In secondo luogo, definite il problema. Terzo, fate un elenco di e e se. Poi, lasciate che i vostri pensieri mordano il problema per un certo periodo di tempo. Non dimenticate di esporvi a situazioni in cui la vostra mente è rilassata o in gioco. Se sapete quali sono i momenti in cui siete più creativi, come una passeggiata o la lettura di un libro, organizzatevi in modo che queste situazioni si verifichino. E soprattutto, tenete a portata di mano carta e penna per prendere rapidamente appunti. Prima che ve ne accorciate, Dio vi avrà dato idee su come procedere attraverso il suo dono dell'immaginazione. Non c'è dubbio che Dio ci ha fatto un dono straordinario quando ci ha dato questo dono. Vi incoraggio a chiedere a Lui di aiutarvi a sfruttarlo al meglio per realizzare lo scopo che ha per la vostra vita.